Se avete in casa questa moneta da un centesimo, potreste riuscire a venderla ai collezionisti per 2.500 o addirittura 3.000 euro. Su Instagram qualche settimana fa ho pubblicato un video che iniziava esattamente così e le reazioni sono state le più disparate, da chi mi ha dato del truffatore a chi ha cercato di contattarmi in privato per vendermi le proprie monete. La prima grande notizia è che quello che vi ho detto non è una bufala. Esistono davvero alcuni esemplari di centesimi che possono valere diverse migliaia di euro e in questo video andiamo a fare un po' di chiarezza vedendo quali sono le caratteristiche che devono avere le vostre monete per interessare i collezionisti, come potete fare per valutare e vendere le vostre monete rare nel caso ve ne trovaste una o più di una e vediamo anche a quanto sono stati venduti gli esemplari di questa moneta da un centesimo negli scorsi anni e, piccolo spoiler, c'è stata addirittura un'asta che si è chiusa a più di 6.000 euro. Prima però vi chiedo di lasciare un like al video per aiutarmi a farlo arrivare a quante più persone possibili e condividetelo anche con i vostri amici perché magari potrebbero avere proprio la moneta di cui parliamo oggi. Il mondo del collezionismo segue delle logiche tutte sue, quindi non è sempre possibile dare un valore ben definito ad una moneta, ma ci sono una serie di linee guida che gli esperti seguono per fare delle stime, anche se poi alla fine il prezzo a cui riuscirete a vendere la vostra moneta dipende sempre da quanto sarà disposto a spendere il vostro compratore. Ma allora come possiamo fare per capire se la moneta che possediamo ha un valore da collezione oppure no? La risposta, nel tempo che viviamo, è semplicissima. Cerchiamo su internet e con una semplice ricerca possiamo capire se la moneta che abbiamo, prodotta in un determinato anno, da un determinato paese e con determinate caratteristiche, può essere considerata una moneta rara e quindi venduta a cifre interessanti oppure no. Generalmente poi il valore di una moneta da collezione dipende anche molto dalle sue condizioni e per molte tipologie di monete i collezionisti accettano soltanto monete fior di conio, cioè quelle monete in condizioni perfette come appena uscite dalla zecca. Ecco però, tornando al nostro caro centesimo del 2002, questo non vale, perché questa moneta è talmente rara che negli anni ci sono state delle aste anche per esemplari in condizioni tutt'altro che perfette. Normalmente infatti sulle monete italiane da un centesimo di euro dovrebbe essere raffigurato Castel del Monte, mentre la mole antonelliana è raffigurata sulle monete da due centesimi. Ma per un errore nel 2002 sono stati prodotti alcune monete con il valore di un centesimo con sopra raffigurata la mole. Spesso questi tipi di errori di conio vengono prodotti volontariamente proprio per creare articoli da collezione, ma in questo caso l'errore non è stato voluto e proprio il fatto che non sia un errore voluto dà a queste monete il loro grande valore per i collezionisti. Si stima infatti che siano state prodotte in totale 7.000 monete sbagliate da un centesimo, ma quasi tutte sono poi state ritirate subito dopo l'emissione. Però alcuni esemplari sono rimasti in circolazione e oltre a quelli già noti e venduti all'asta negli scorsi anni, si pensa che ci siano ancora in giro circa un centinaio di esemplari di centesimo con la mole. Quindi è probabile che qualcuno possa ritrovarseli in casa senza neanche sapere il loro reale valore. Il prezzo più alto mai registrato per una di queste monete da un centesimo con la mole antonegliana è di ben 6.600 euro raggiunto durante un'asta tenuta a Torino da Bolaffi il 25 maggio del 2013 e come potete vedere la moneta venduta in quell'occasione non era assolutamente fior di conio, ma anzi era anche piuttosto usurata. Poi parliamoci chiaro che una piccola moneta da un centesimo possa valere addirittura più di 6.000 euro è sicuramente discutibile e ad una persona comune potrà sembrare incredibile, ma quando si ha a che fare con il collezionismo spesso ci si trova di fronte a cifre folli e forse questo è uno di quei casi. Quindi la prossima volta che vi ritroverete in mano una moneta per quanto piccolo possa essere il suo valore nominale, magari dategli un'occhiata prima di buttarla via perché potrebbe farvi guadagnare un po' di soldi che siano 100 euro o come in questo caso addirittura 6.600. Grazie all'internet oggi ci mettete davvero pochissimo per capire ciò che avete in mano e se poi credete di avere in mano un pezzo raro e volete esserne sicuri potete sempre farlo valutare da esperti che anche in questo caso potete ricercare e trovare online. E una volta che sarete sicuri di avere tra le mani una moneta che potrebbe interessare i collezionisti potete semplicemente metterla all'asta su siti come ebay o katawiki dai quali magari potreste anche riuscire a ricavare molto di più di quello che avevate inizialmente preventivato. Quindi ricapitolando e mi rivolgo soprattutto a tutte quelle persone che mi hanno scritto che loro i centesimi li buttano via perché non li vogliono neanche vedere, quando avete delle monete fate sempre attenzione a ciò che avete in mano. Se vedete una moneta che vi sembra particolare fate una breve ricerca su internet per vedere se può avere un certo valore per i collezionisti e se sì provate a venderla all'asta. Io vi auguro di avere fortuna e di riuscire a ricavare un po' di soldi dalle vostre monetine. Nel frattempo vi ringrazio per aver guardato e vi do appuntamento al prossimo video.